Io penso che a parte la maturità, anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra con grandissimo carattere, perché abbiamo incontrato un Agragas che ci aggrediva, che andava su tutti i palloni, perciò sicuramente una buona squadra, un'ottima squadra, una squadra viva, perciò da parte mia è ancora più importante questa vittoria, perché ci dà la possibilità di rimanere attaccata alla testa, al trapani, noi come ho sempre detto ce la giocheremo fino alla fine, non molleremo mai e queste sono delle partite molto complicate in un campo difficile, però devo dire che è stata una grandissima giornata di sport, vedere due tifoserie che si stimano a vicenda secondo me è la cosa più bella che ci possa essere, è normale che poi magari in campo c'è la partita, c'è l'agonismo, c'è tutto quello che voi sapete meglio di me, perciò penso che sia stata una grandissima giornata di sport e per noi un'altrettanto importante vittoria.